Non è una delle solite cantanti Laura Vetti, anzi non è una cantante, è un intellettuale, un intellettuale dello stornello, vive a mezza strada fra l'incomunicabilità e l'alienazione. Ovviamente non canterebbe mai una di quelle canzonette insulse che fanno impazzire i fans di Celentano o di Pino Donaggio. Canta invece seriamente versi di questo genere. Un giorno mi baciò, le labbra mi mangiò. Nei giorni di sereno, mangiava gambe e seno, un triste giovedì, il naso mi inghiossì. Ci chiediamo perché l'è saltata in mente l'idea di cantare, lei sa dircelo? Mentre mi facevo la barba al mattino nel bagno ho scoperto che avevo una bella voce e quindi ho seguitato. Dunque lei è convinta di avere una bella voce? Magnifica a modo mio naturalmente. Dicono che lei è anche una fettrice, preferisce cantare o recitare? Tutte e due. Che cosa c'è nel suo futuro signora Laura Vetti? Solo canzoni? C'è neanche, spesso che monotonia. Adesso anzi, adesso debuto come giornalista, sono l'indiata speciale delle ore e vado in Africa. Scusi, come ha detto? Sono l'inviata speciale delle ore e vado a scrivere degli articoli in Africa, perché poi c'è anche Pasolini che gira un film, poi c'è i negri, insomma io chiedo domande e scrivo. Coraggio, ci parli un poco di Pasolini e dei negri, delle cose che diranno? Posso fare altre persone, sono in esclusiva, lo scriverò. C'è da scommettere che lei pensa di avere molti lettori quando scriverà, è inutile chiederglielo, lei che ne dice? Beh, lei cosa ne pensa? Io cosa dissi? Vogliamo cominciare subito? Scriva la prima corrispondenza su questa lavagna, se non le dispiace, prego. Perché no? Grazie. Dimenticavamo, Laura Vetti, intellettuale dello Stornello e giornalista, è una donna di polso e di pronte decisioni. La sera della prima a Roma è passata al botteghino e per cautelarsi ha portato via tutto l'incasso, 750.000 lire, come dobbiamo chiamarla? Alienazione?